Era un segreto che Romina Pao custodiva gelosamente. Uno che ha deciso di svelare solo ora, dopo tanti anni, riguardante la sua relazione con Albano. Iscriviti e lascia un like se vuoi scoprire altri segreti delle celebrità. Romina e Albano hanno condiviso una vita insieme che si estende per decenni, creando un legame profondo. Potremmo pensare che non ci fossero segreti tra loro, ma la realtà è spesso più complessa di quanto sembri. Questo è ciò che Romina Pao ha confidato in un'intervista esclusiva a Vanity Fair. Insieme, Albano e Romina hanno accolto quattro figli nel mondo, Yari, Ilenia, che ha tragicamente scomparso in circostanze misteriose, Christel di Romina Jr. Il segreto che Romina ha scelto di tenere nascosto per tanto tempo riguardava qualcosa di molto intimo e personale. Il concepimento dei loro figli. Hai mai tenuto un segreto nascosto per così tanto tempo al tuo partner? Romina, una madre devota e affettuosa, ha sempre considerato i suoi figli come il faro della sua vita. A volte, non ricordo in quale anno sia accaduto un evento, e allora penso, quanti anni aveva Yari in quel momento? Ha rivelato con un tocco di nostalgia. Romina ha espresso quanto le sia stato difficile accettare che i suoi figli sarebbero cresciuti e sarebbero diventati indipendenti. La nascita di Ilenia, immortalata in una foto su Instagram, è un momento che Romina ricorda con particolare tenerezza. Tuttavia, ha anche confessato il dolore che ha provato nel sentire che i suoi figli le venivano sottratti, pezzo dopo pezzo, dalla vita, dai parenti, dalla scuola, dagli amici. Le prime settimane di gravidanza erano le più magiche, era un segreto solo mio. E avrei voluto che rimanesse così per sempre, ha detto Romina, rivelando così il suo desiderio di mantenere questo segreto il più a lungo possibile, anche da Albano. Questo desiderio di discrezione è diventato impossibile da mantenere, specialmente durante i periodi di massimo interesse mediatico sulla loro vita privata e sulla relazione di Albano con Loredana Lecciso. Iscriviti e lascia un like se vuoi scoprire altri segreti delle celebrità. E tu, cosa ne pensi? Condividi nei commenti la tua opinione su questa rivelazione di Romina Power. Se ti è piaciuto scoprire questo segreto, ricorda di lasciare un like al video e di iscriverti al canale per non perdere altre storie emozionanti come questa. Commenta la tua opinione e non dimenticare di iscriverti per altri affascinanti racconti. In conclusione, la storia di Romina e Albano ci insegna che, a volte, i segreti più profondi possono essere quelli nascosti proprio sotto i nostri occhi. Che impatto pensi che questa rivelazione avrà sulla loro storia d'amore?